da dove eravamo e quello che insieme abbiamo fatto. Questa è la crescita dei passati 11 anni assieme. Oggi mi piacerebbe parlare di cosa faremo nell'immediato futuro, anzi di cosa subito abbiamo incominciato a fare. Siete qui sulla seconda delle narvi del progetto Rinascimento, MSC Sinfonia, seguiranno poi opere e lirica. E questo è un progetto importantissimo, a prescindere dall'investimento, ma perché di fatto aumenta la capacità della nostra flotta di ben 800 gabini. È come se ci fosse un'ulteriore nuova nave. Questo vuol dire ulteriore opportunità di vendita, questo vuol dire poter crescere nel market share delle vostre agenzie. Ma subito, prima di parlarvi di questa nave brevemente e degli itinerari, mi piacerebbe farvi vedere un video che racconta la straordinaria opera ingegneristica che ha permesso di uscire.